Donna sola, casalinga, casalingua frustrata di merda! Oggi per te ho la soluzione! Io sono Miki Suele e in studio con noi abbiamo il robottino che soddisferà tutte le donne! Danò il gigolò! Danò il gigolò non ha il cuore ma un'anima! Ciao a tutti! Non ho deciso di parlare Danò! Zitto! Molto bene Danò! Non scusi! Danò il gigolò rompe il cazzo come tutti gli uomini! E anche molto bello! Avvicinati! Ma che cazzo di roba come avete mandato? Ho capito che l'avete preso dal cinese ma fa sì proprio... E' molto bello se avete il busto dell'oro! E' molto bello! E' dotato di una calotta che maschera il buco! Che è il buco in cui si inseriscono le file! Ok Danò ha tante funzioni! La prima funzione è di consola! Oddio sono una cicciolata! No tesoro! Non fare così! Non sei poi così ciccenazza tesoro! Davvero? Sei solo una cutrasa di merda! Ah! Dimenticavo! Puzzi! Come vedete mi ha dato uno sprint di vita! E ha fatto capire la vera realtà che mi migliorerà! Mi farà diventare una donna migliore! Grazie Danò! Ma te abbiamo il culo! La seconda funzione di Danò è... Vi scopa come nessuno mai! Sono sudato! Danò grazie per avermi scopato! Danò stop! Danò inoltre vi aiuta nello shopping come una donna, come un'amica, ma con la consapevolezza che ha il cazzo! Fantastico! Danò, cosa dici la prendo questa magliettina? Molto carina! Prendila! Si abbina molto con il marciume dei tuoi denti e con il color merda dei tuoi occhi! No, non ho capito! È un modo per dire che faccio schifo? No! È un modo per dire che questa maglia ti fa sembrare meno schifosa! Allora la prendo! Vedete? Danò vi aiuta! Danò inoltre vi cucina come una massaia degli anni Ottanta e vi fa dei piattini che nessuno mai vi farebbe! Danò, hai preparato la cena per stasera? Sì! Cos'hai preparato di buono? Polpette di fecale! Cosa? Cos'è sono le polpette di fecale? Merda di capra! Ma noi umani non mangiamo la merda di capra! Danò! Mi scusi! È che a guardarla! Ho pensato che lei mangiasse solo merda! Danò inoltre! Al contrario di molti uomini vi fa sempre un regalo! Sempre! Danò! Oggi è il mio compleanno! Cosa mi hai regalato? Ti ho fatto un regalo che so che ti piacerà! Oddio! Cosa? Cosa? Però a dartelo mi vergogno un po'! Dai dai! Umbiti! Sto cazzo! Avete visto amiche? Donne sole! Questo è il regalo che tutte vorremmo! Inoltre Danò vi massaggia ma come un massaggiatore thailandese! Cioè con delle mani proprio ma va a fondo! Vi toglie tutti i dolori! È fantastico Danò! 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 Un po' male è qua! Qua dalla scapola! Mi farei sì! Hai un massaggio quindi? Sì qua! Guarda dove ho la mano! Danò non mi sta passando in questa maniera! Posso fare più forte? Eh! Ai ragazzo! Va bene così Danò! Te posso non scarruppare gli elettro domestici! E la cosa più importante amiche! Danò vi ama! Anche se non è un cuore come vi ho già detto! Vi ama! Danò! Io ti amo! Tesoro! Ti amo anch'io tantissimo! Davvero? Sì tanto! Ma come è possibile? Tu non hai un cuore! Eh! Tesoro! Io una domandina me la farei! Aspettite non ho comprato! Andate da Mastrote e comprate i materazzi! Ciao a tutte donne! Ma ha tante funzioni! La prima funziona... Ma cosa fai? Lo taglio! La... Vai! La prima funzione di Danò il gigolo... Ma se ti chiami H.Amanuele? Ma no! Il titolo era Danò il gigolo! Il titolo del video è Danò il gigolo! Ok la prima funzione di H.Amanuele! Grazie H.Amanuele! Il cazzo mi metto a dire Danò! Ok! Io ti chiamo Danò! Ok! Beh facciamo... La seconda funziona... Prego! La seconda funziona... Guarda! Mi scusi! È che a guardarla... Ho pensato che lei mangiasse solo merda! Comunque andiamo avanti! Ho fatto male! Un po'! Ah dimenticavo una cosa! Un sito mi ha mandato questa collannina qua! Che è fighissima! È abbastanza sobra rispetto ai miei gusti però vabbè mi piace! E c'è la catenina di plastica rosa e poi la catena d'oro! Secondo me è anche elegante tipo per un vestito un po' più serio! Ci smetti questa? Slicca! E il sito si chiama JewelryCoco.com Scritto JewelryCoco.com Ed è un sito che vende tutta la bijuteria a prezzi tipo stracciatissimi 2-3 dollari, 4 dollari Cioè non c'è niente che superi 10 dollari E sapete che ne escono come funghi di questi siti E questo sito mi ha mandato solo questa Grandissima collaboration praticamente Però ovviamente quello che è gratis Ovviamente si prende senza minimo indugio E niente mi ha chiesto di parlare di questo sito E ne ho parlato Andate a vedere se vi interessa Sono uguale Non è che mi cambia niente Questo è tutto E ciao!